La nostra ditta nasce come fabbrica di cannoli ma come vedete ci siamo un pochettino allargati con le produzioni tipiche regionali e non. Da qualche tempo ci siamo dedicati al salato, facciamo arancini, panelle, rosticceria surgelata e tutto quello che il mercato richiede. Qua abbiamo la frutta di martorana o pasta reale, composto di farina di mandorle e zucchero, miele e glucosio. Questo è un prodotto tipico siciliano. Noi le chiamiamo mostacciola a Palermo ma in molti paesi dell'entroterra siciliano vengono chiamati ossa dei morti. È un prodotto povero di grassi, è composto solo da farina e zucchero. Questi sono i buccellati, è un biscotto di pasta frolla al ripieno di fichi, mandorle, noci, cioccolato e frutta candita. Poi abbiamo le classiche regginelle che è un biscotto di pasta frolla senza ripieno con i semi di sesamo attorno. Ora qua abbiamo il classico paladino siciliano. Pupiti di zucchero sono delle sculture di zucchero che sono state inventate da un magnante arabo che è entrato in povertà, non avendo niente da offrire al tavolo ai suoi commensali per l'ultima festa che si era proposto di fare. Si è sperimentato queste statuette di zucchero e ha offerto quelle come cena.